Sospesa per un mese l'attività di un minimarket nel quartiere di Saione in via Nazario Sauro, è successo a seguito del blitz antidroga scattato alcuni giorni fa negli angoli più caldi della città, che aveva coinvolto gli operatori della mobile della squadra volante della questura di Arezzo e il personale cinofilo di Firenze. Nel mirino della polizia era finito un minimarket etnico a causa di un continuo via vai di persone, molte delle quali conosciute per il consumo di stupefacenti. E proprio all'interno dell'esercizio commerciale i cani antidroga avevano scovato alcune confezioni di marihuana nella borsa di un cittadino nigeriano ed altro quantitativo, sempre in confezioni di nylon trasparenti, in una scatola contenente banane in avanzato stato di maturazione e decomposte. La perquisizione si era così spostata in un appartamento dove era stata trovata altra marihuana, circa un etto in totale lo stupefacente sequestrato. L'operazione aveva così portato all'arresto di un cittadino nigeriano su cui gravano precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e del titolare del minimarket. Non andranno comunque in carcere i due arrestati. Il titolare del negozio è stato infatti subito liberato su disposizione del PM di turno. Andrà invece a processo l'altro arrestato, sorpreso con la droga nascosta nella borsa. La procura per lui aveva chiesto il divieto di dimora ad Arezzo. Il giudice invece ha convalidato l'arresto, disponendo però una misura cautelare più tenue l'obbligo di firma. A causa della droga rinvenuta, infine, il questore di Arezzo ha deciso di sospendere, da oggi per 30 giorni, la licenza dell'esercizio commerciale.